Lo storico capitano del Chieti Calcio si schiera con De Cesare. L'ex direttore sportivo e dirigente della società di calcio Teatina, Alessandro Battisti, ha preso posizione pubblicamente rispetto alle prossime amministrative. Tra i cinque candidati, Battisti ha scelto Paolo De Cesare come prossimo sindaco. Conosco Paolo e la sua famiglia da anni, so l'amore viscerale che nutre per questa città e sono certo, appunto, conoscendolo, che qualsiasi azione e qualsiasi decisione che prenderà durante la sua avventura amministrativa sarà rivolta solo ed esclusivamente per il bene vero di Chieti. De Cesare infatti rivendica la teatinità e i colori nero-verde. Tra le priorità del suo programma vi è la questione sport. Tutte le associazioni sportive cittadine sono state abbandonate e non supportate dall'amministrazione uscente, così come sono state totalmente abbandonate e vivono una situazione di degrado tutte le strutture e tutti gli impianti sportivi cittadini. Una delle nostre priorità è ripartire dallo sport, stare vicino alle associazioni sportive che portano il nome della città in giro per l'Italia, è l'onore delle croniche, nonché programmare una corretta e adeguata manutenzione a tutti gli impianti sportivi a partire dallo stadio Angelini, che purtroppo, come sapete, è totalmente in uno stato di degrado. Lo stadio Angelini, infatti, storica casa del Chieti Calcio, è una delle questioni di cui il prossimo sindaco dovrà sicuramente occuparsi. Lo stadio tutt'oggi è ancora inutilizzabile. Una situazione questa che costringe la squadra cittadina a emigrare negli impianti dei comuni vicini. Purtroppo è una situazione che danneggia un po' tutta la città, l'immagine, non solamente la squadra, ma la società della Chieti Calcio. Danneggia soprattutto i tifosi che sono costretti a pererinare in giro per l'Abruzzo, appunto, per sostenere i propri colori.